Scansiono tutte le frequenze. Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio. Siamo al comando. Stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Ruine. Uso un dardo sensore. Siamo in vantaggio Tutto finito Uccisione Nemico eliminato UAB pronto Qui Rikon, autorizzo sorvolo UAB Tuo per l'UAB al 50% Eliminato Eccone uno Roffet eliminato Impulso visivo disponibile Mina Seeker pronta Dardo sensore attivato Combattenti armati Evidenzio i bersagli Qui Rikon Richiedo collegamento UAB Durante la pirata i sensori acquisiscono l'obiettivo Energia UAB scesa al 50% Ormai sono alla frutta Finiteli Hellstorm in attesa Beccatevi un Gli ultimi Calcio Abbi Cacov Ricco non richiede attacco Un I soldi fanno sempre comodo Ruffet eliminato Impulso visivo disponibile